Musica Servono 2 euro goal di Tiberio, lo spoltore a Pescara, cade il Delfino Curi Pescara con la doppietta del classe 2002 nella ripresa Venendo al match il Delfino Curi è la seconda settimana senza mister Bonatti, sostituito dal suo vice Spinozzi Si schiera con 4-2-3-1 con massa falso 9, spoltore di Camilo si affida ai giovani planamente e colecchia i terminali offensivi Partita che in realtà stenta a decollare al terzo, percussione di Falco dalla sinistra ma il successivo tiro è facile preda di Palena All'undicesimo traversone di De Vincentis, deviazione di Lupo che centra calore rischiando di inserire la palla nella propria porta Tanta densità centrocampo al venticinquesimo, triangolazione in grande stile, massa tamburiello con quest'ultimo che conclude di prima intenzione senza impensierire l'estremo ospite Un'occasione per parte prima di far scendere i titoli di cola sulla prima frazione planamente da punizione non incide Mentre Gobbo, ottimamente servito dalla sinistra, mastica il pallone e sciupa Una potenziale occasione da rete, con le immagini di Simone Luciani nella ripresa I ritmi appaiono bassi sin dalle prime battute al settimo, massa tira dritto per dritto, trova una deviazione ed è calcio d'angolo Per trovare una nuova occasione da rete bisogna attendere precisamente 16 minuti e l'occasione giusta Percussione poterosa di Tiberi che arriva tu per tu con calore e lo fredda con un preciso tiro che porta lo spoltore in vantaggio Il De Fino Curi risponde prima con Di Giovacchino che da fuori area al volo vede la sua conclusione sorvolare sopra la traversa Poi con la doppia conclusione, massa Gobbo, entrambe disinnescate da un attento Palena Nel momento di maggior pressione pescarese Tiberi trova il pallone dai 20 metri con il destro, centra il 7 Doppietta e partita in ghiaccio per il 2-0 dello spoltore La reazione pescarese tarda ad arrivare dopo 4 minuti di recupero Spoltore sbarca Pescara e torna a sperare nella salvezza diretta Il De Fino Curi Pescara, spoltore 0-2 Partiamo dal presupposto che una sconfitta non ci sta mai Non ci sarà mai una sconfitta nello sport che ci potrà stare, penso Venendo poi alla partita, il primo tempo l'abbiamo passato senza particolari sussulti Io non mi ricordo una mia parata sinceramente, ma come d'altronde nessuna da parte di Palena al primo tempo Quindi è stato un primo tempo equilibrato, dove le squadre sembravano potersi da un lato accontentare del pareggio Però comunque con la voglia di portare a casa la piena posta Poi il secondo tempo si è sbloccato tutto con il primo dei due rogole di Tiberi Dove noi siamo stati secondo me un po' morbidi Lui ha fatto 40-50 metri di palla al piede E secondo me comunque in una squadra come la nostra, che ha nelle sue principali caratteristiche La determinazione, la forza, la grinta, la corsa Secondo me è qualcosa che non doveva accadere Poi è normale, l'inizio della partita ti porta a scoprirti Volevamo pareggiarla a tutti i costi Con un punto probabilmente oggi noi saremmo stati definitivamente salvi Non è così, non ci lecchiamo minimamente le ferite Mancano quattro partite e c'è la salvezza da raggiungere a tutti i costi Mister Di Camillo, tre punti fondamentali Una partita giocata principalmente a centrocampo Poi la stella di Tiberi si è accesa Due euro goal che vi hanno portato appunto tre punti fondamentali Tre punti d'oro, tre punti vitali Chiamiamoli come vogliamo Ma è stata una vittoria che dovevamo fare a tutti i costi Per cercare di arrivare il più in alto possibile Fare più punti possibili Adesso mancano tre finali Niente, i ragazzi ultimamente stanno facendo grandissime cose Giochiamo con una squadra giovanissima Ma questo non c'entra nulla Nel senso che comunque loro sono tutti ragazzi bravi Che si impegnano durante la settimana Io di questo li ringrazierò sempre Arriva con lo spirito alto di aver fatto sette punti nelle ultime tre partite Il pareggio di due settimane fa a Vasto A cinque punti della fine è un po' grida vendetta Però ci sono ancora nove punti a disposizione Il penne ha altre due partite da recuperare Ci sono ancora sconti diretti tra tutte quelle coinvolte giù Fare calcoli e previsioni adesso è ancora prematuro Forse già a due partite della fine si può un attimo prevedere E capire come poter impostare anche le partite Se dover spingere per vincere per forza o accontentarsi Ma ne riparleremo dopo Pasqua Diciamo dai E capire come poter impostare anche le partite della fine si può un attimo prevedere